ciao oggi parliamo di cambio stagione dei vestiti se devi ancora farlo se non sai bene da caparte cominciare per affrontare questo momento se odi cambio stagione oppure se dici di non avere mai tempo per farlo ma tanto prima o poi sai che il tempo lo devi trovare allora segui questo video mi chiamo marta e sono una professional organizer seguimi su questo canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato su tutti i trucchi che ti aiuteranno a eliminare il disordine da casa tua in questo video troverai tanti consigli pratici per affrontare il cambio stagione dei tuoi vestiti ti dirò come prepararti prima per arrivare super organizzato al momento del cambio stagione quindi cominciamo che cosa ci serve innanzitutto segna sul calendario o sull'agenda quando intendi fare il cambio stagione è un appuntamento molto importante un po come quando devi andare dal commercialista o dall'estetista decidi tu ma non puoi mancare quindi come prepararti metti a lavare tutto quello che non è fresco di bucato e che devi mettere via decidi i piani di appoggio che utilizzerai potrebbe essere il letto in aggiunta ad un piccolo tavolino oppure una rella se ce l'hai il giorno in cui farai questo lavoro dovrai avere una serie di cose già pronte come ad esempio stracci per pulire e un detergente scatole per il cambio stagione oppure sacchetti per fare sottovuoto se ti piacciono e se li utilizzi una scaletta se necessario sacchetti di carta dove mettere i vestiti che decidi di scartare etichette matite pennarelli pennarelli indelebili penne e poi sacchetti antitarme pronti per il cambio stagione la prima cosa che devi fare è fare una bella cernita dei tuoi vestiti il famoso decluttering ho fatto un video su questo e te lo linko qui sotto è importante alleggerire l'armadio è inutile che tieni quel maglione che sono cinque anni che non utilizzi è molto utile fare il decluttering sia per i vestiti che togli dall'armadio quindi della vecchia stagione sia per quelli che ci entrano inizia ad occuparti di quei vestiti che sono nelle scatole e che presto saranno nel tuo armadio quindi comincia la cernita scegli li mettili tutti sul letto e uno alla volta li guardi e decidi se tenerli oppure no quali sono le domande che ti devi fare per decidere allora innanzitutto guarda se ti piace che sensazione ti regala quel vestito quel capo se la sensazione è bella ti fa sentire bene allora lo tieni se invece c'è qualcosa che non ti quadra sai già che probabilmente non lo metterai allora scartalo poi ti puoi chiedere se per caso è ancora in buone condizioni quindi se è rotto un pochino sgualcito probabilmente lo puoi mettere nel sacco e buttarlo poi controlla la taglia se non è più della tua taglia giusta eliminalo dallo a qualcuno regalalo questo perché perché è inutile tenere nell'armadio vestiti di taglie che sono sbagliate non ti appartengono più perché riempi l'armadio con cose che in realtà non puoi mettere e hai la sensazione di avere l'armadio pieno ma in realtà non è così e in più è frustrante ok unica eccezione a questo se per caso hai dei vestiti stretti in cui vorresti rientrare se hai deciso di metterti a dieta allora tienili tienili per qualche mese e controlla se la tua dieta sta funzionando lasciali lì se invece non hai nessuna intenzione di metterti a dieta e l'idea di avere lì questi vestiti che prima o poi utilizzerai la stai rimandando già da un po di anni eliminali questo non perché non credo in te e non penso che tu possa dimagrire io ci credo il fatto è che se non hai intenzione di farlo adesso e se passano gli anni probabilmente quei vestiti alla fine non ti piaceranno più saranno magari passati di moda tu avrai cambiato i gusti e per anni hai occupato il tuo spazio con vestiti che poi non metterai comunque per cui è un vero peccato utilizzare così lo spazio ma cosa fare con i vestiti che decidi di eliminare ti avevo detto di preparare dei sacchetti e questi ti serviranno per mettere i vestiti che intendi vendere regalare buttare riciclare aggiustare oppure reinventare quando decidi di vendere per i vestiti che sono della stagione attuale e che decidi di eliminare li puoi anche vendere subito sono della stagione giusta se adesso è primavera e tu elimini dei vestiti che vanno bene per la primavera o per l'estate li puoi vendere già adesso quindi metti in un sacchetto questi vestiti decidi quando te ne occuperai lo segni sul calendario e in più ti scrivi anche dove metti quel sacchetto per non dimenticartene è vero che ti ho detto che te ne devi occupare subito però magari non hai tempo in questo momento lo fai la settimana prossima o tra due settimane e quindi se vuoi te lo puoi scrivere un altro sacchetto lo userai per i vestiti da regalare amici parenti associazioni che aiutano le persone bisognose saranno tutti felici di ricevere i vestiti che tu scarti l'importante che siano in buone condizioni e questo vale anche per i vestiti che vendi devi essere sicura che quei vestiti siano indossabili insomma non devono avere macchie nei buchi niente devono essere praticamente perfetti occhio però perché amici e parenti non sempre sono felici di ricevere saccate saccate di vestiti quindi assicuratene prima che vogliano riceverli e comunque fai una bella selezione in base a chi riceverà questi vestiti poi c'è il sacchetto dei vestiti che decidi di buttare butti ovviamente solo quelli che non puoi né vendere né regalare né farci nient'altro devono essere proprio macchiati e rovinati in maniera irrimediabile anche se c'è sempre l'opzione del reinventare a me è capitato di far ricamare su un maglione di lana dei fiori su una macchia che purtroppo mi era rimasta dopo un lavaggio anche chiedendo in dintoria ho capito che non c'era rimedio ma rimedio l'ho trovato lo stesso e ne sono anche molto fiera è diventato anche più bello di prima per cui chiediamoci certe volte se anche se quel capo è rovinato se magari in qualche modo lo possiamo recuperare poi c'è sacchetto delle cose da aggiustare bottoni che si sono staccati cerniere rotte capi che magari si sono scuciti non metteteli nelle scatole o nell'armadio metteteli in questo sacchetto con scritto da aggiustare e o li aggiustate voi se siete così bravi oppure li portate direttamente da una sarta il prima possibile in maniera che poi ve ne potete occupare e questo sacchetto non vaga per casa per mesi e mesi e poi c'è l'ultimo quello che a me piace tantissimo che è il reinventare prima ti ho già detto che ho fatto questo lavoro su un maglione che si era macchiato e che ho fatto ricamare si può fare anche con altre cose mi è capitato di far sistemare anche un cappotto stretto da una sarta che me l'ha allargato in maniera molto fantasiose occupati di tutti questi vestiti nei sacchi il prima possibile non tenere per mesi e mesi questi sacchi sul pavimento del tuo ingresso o in uno sgabuzzino perché poi non sarai soddisfatto del risultato li avrai sempre sott'occhio e ti daranno molto fastidio quindi segna sul calendario questi appuntamenti occupatene subito per quanto riguarda i vestiti che erano nelle scatole perché di questo ci stiamo occupando in questo momento e che hai deciso di tenere parcheggiare un attimo sul letto o su un'altra superficie che hai deciso di utilizzare e lasciali lì perché adesso ci occupiamo invece dei vestiti che escono dall'armadio quindi quelli della stagione appena passata che rimetteremo nelle scatole togli dall'armadio dai cassetti e dalle mensole tutti i vestiti appoggiali sul letto fai una bella montagna di vestiti e occupati un attimino del tuo armadio prendi straccio il detergente che hai e dai una bella pulita dentro e fuori già che ci sei questo momento perfetto per dare una bella rinfrescata all'armadio poi fai il decluttering come ti ho spiegato prima quindi decidi che cosa tenere che cosa eliminare e usi gli stessi sacchetti che hai preparato ad eccezione del sacchetto della vendita questo perché se tu stai tirando fuori dall'armadio i vestiti della stagione appena passata quindi ad esempio i vestiti invernali adesso che è primavera non li puoi vendere nessuno te li acquista quindi farai un bel sacchetto con i vestiti da vendere fuori scriverai che li venderai in autunno in più te lo segni sul calendario o sull'agenda scrivi in un giorno appunto in autunno che ti occuperai di questi vestiti e segnati dove hai messo il sacchetto perché passati i mesi probabilmente te ne sarai completamente dimenticato a questo punto il decluttering è finito hai scelto che cosa tenere e che cosa eliminare e ora ci occupiamo dei vestiti che restano con noi finita la cernita è ora di mettere via prendi quindi i vestiti che hai appena tirato fuori dal tuo armadio quindi quelli della stagione precedente e mettili nelle scatole oppure nei sacchetti per il sottovuoto quando metti questi vestiti nelle scatole utilizza un buon metodo per piegare i tuoi vestiti io consiglio il metodo di maricondo ti linko qua sotto due video che ho fatto dove spiego come piegare i maglioni di lana e come piegare le magliette a maniche lunghe questo perché è un metodo che ti permette di avere una scatola super organizzata e anche facile da consultare nel momento del bisogno mi raccomando ricordati di mettere l'antitarme nelle scatole per non trovare sorpresine sgradite al prossimo cambio stagione e poi scrivi sempre fuori dalla scatola il suo contenuto questo perché dopo mesi ti dimenticherai che cosa hai messo in quelle scatole lì e se per caso hai bisogno di consultare la scatola prendere un maglione perché magari va in alta montagna e bisogno di un paio che hai messo via saprai anche in piena estate esattamente dove l'hai messo per quanto riguarda invece i vestiti della stagione che sta arrivando è ora di metterli nell'armadio quindi suddividi anche questi per categorie e poi scegli quale vuoi appendere e quali invece vuoi piegare nei cassetti oppure sulle mensole per i vestiti appesi adesso ti insegno un piccolo trucchetto stai a guardare quando metti via tutti i tuoi vestiti appesi li metti con la gruccia attaccata al contrario all'asta poi man mano che utilizzi i tuoi vestiti li tiri giù gli utilizzi li lavi e li rimetti ma questa volta la gruccia la pendine il vestito nel verso dritto quello che utilizzi normalmente alla fine della stagione ti renderai conto andrai a controllare quante grucce sono rimaste appese al contrario questo ti dice quanti vestiti e quali vestiti non hai utilizzato durante la stagione e quindi alla fine col prossimo cambio stagione sarà un pochino più facile fare decluttering se non hai utilizzato un vestito per tutta la stagione puoi scegliere magari di eliminarlo quando appendi vestiti mantieni le categorie che avevi creato quindi tieni vicine le giacche le camicie i pantaloni le gonne i vestiti eccetera eccetera puoi anche decidere di mettere in ordine il tuo guardaroba per colore quindi tutte le cose dello stesso colore tutte vicine consiglio comunque di mantenere la suddivisione per categorie per quanto riguarda i vestiti che decidi di piegare li puoi mettere o nei cassetti se ne hai a sufficienza oppure se hai le mensole ti consiglio di utilizzare dei contenitori che ti permettono di tenere vicine le categorie e poi puoi piegare con il metodo con mari che ti spiegavo prima questo perché la vista dall'alto dei tuoi vestiti ti permettere ti permette di scegliere facilmente quello che vuoi indossare e poi si crea anche un effetto un po più ordinato questo video è quasi finito e io voglio lasciarti alcune piccole tips finali la prima che ti lascio è non riempire l'armadio più dell'ottanta per cento perché perché bene lasciare dei vuoti questo ti permette di consultare meglio il tuo guardaroba e decidere con più facilità i vestiti che vuoi mettere in più se comprerai dei vestiti saprai anche dove metterli perché lo spazio ce l'hai se invece già lo lasci riempito al cento per cento poi l'armadio scoppierà e un armadio troppo pieno nasconde il suo contenuto ok quando lo riempi troppo non sai più quello che hai davvero quando cercherai un capo particolare e non lo troverai succederà molto probabilmente che andrai a ricomprarlo quindi avere un armadio arioso ti permette anche di risparmiare qualche soldino e non è male ti consiglio di fare questo lavoro accendendo una bella musica che ti piace e che ti carica non ti dimenticare di bere puoi bere anche una tisana quello che ti pare anche una birretta se preferisci e se ti dà la giusta carica e poi un bel sorriso sulle labbra perché stai facendo un ottimo lavoro se ti è piaciuto questo video lascia un like e condividilo con tutte le persone che conosci che fanno fatica ad affrontare questo momento dell'anno che tra l'altro arriva per ben due volte ciao